...interrogazione successiva, interrogazione numero 545 del 2016-2008 sui parcheggi per disabili del centro-città, proponente con noi da Lutra e Arredo, constatato che alcune vite del centro-citratino stali precedentemente adiviti ai parcheggi per disabili sono stati eliminati da segnali artisti e cittadini o affermate anche il bus, il sottoscritto si riguarda l'amministrazione per sapere su quanti stali per disabili sono stati soppressi in diamante, se l'amministrazione è provvenuta a riferire nuovi parcheggi per disabili sempre ripresi nel centro-città, di quanti costeggi per disabili risponde la città di Pordenone, la parola ha risposto a tutti per la risposta.